Salve a tutti. Prima di iniziare il video vorrei come sempre invitarvi a guardare il video fino alla fine, lasciare like, iscrivervi e condividere questo video. Oggi vorrei fare alcune considerazioni sulla questione del nome di Dio secondo i testimoni di Geova. Cercherò di non dire cose che avete sentito in milione di volte, anche se ovviamente mi ricollegherò a quelle. Ci sono già mille video fatti da altri sulla vocalizzazione del tetragramma, se vi interessa potete guardare quelli. Ad esempio se ne sono occupati su Cari Ared, Giuseppe Longo però nel canale Dio ti cerca, non in quello che usa adesso, ma anche padre Piero Riggi nel canale di Rita Sberna. Vi lascio qualche link in descrizione. In questo video vi parlerò dei seguenti argomenti. 1. Sull'uso del nome di Dio da parte loro e degli altri TDG si contraddicono. 2. Il tetragramma compare o no nei manoscritti antichi. 3. Qual è il vero nome di Dio secondo la Bibbia? 4. Qual è la traduzione esatta del nome di Dio? 5. Il nome di Dio compare nel Nuovo Testamento. Riguardo il perché usano questo nome i TDG si contraddicono da soli perché prima dicono che la cristianità apostata ha voluto occultare il nome di Dio, ma poi dicono che bisognerebbe tradurlo in italiano, e secondo loro la traduzione sarebbe Geova, perché quello sarebbe il nome di Dio conosciuto da tutti in italiano. E che addirittura in certe chiese si trova scritto Geova o Jeova. Sulla traduzione di Yahweh ci torniamo subito, ma per ora vorrei farvi notare la contraddizione. Ma allora il nome Geova è sempre stato occultato e sempre stato riconosciuto da tutti? A me sembra una contraddizione. Non so a voi, ma andiamo avanti. Secondo loro il nome di Dio sarebbe stato tolto dal Nuovo Testamento dagli Apostati. Nel Nuovo Testamento in nessun manoscritto risulta il tetragramma ma Signore. Ma loro sostengono in un loro video che un ritrovamento potrebbe confermare l'uso del tetragramma nel Nuovo Testamento. Ci sarebbero dei manoscritti greci antichi che conterrebbero il tetragramma, ma si tratta dell'Antico Testamento. Come il papirofo a 266, che appartiene alla Bibbia dei 70, cioè l'Antico Testamento tradotto in greco nel III secolo a.C. Io non sono un esperto, ma all'università mi è stato insegnato cos'è un'edizione critica. Ve lo riporto da Wikipedia. In filologia o critica testuale, per edizione critica di un testo si intende una pubblicazione del testo stesso mirante a ristabilirne la forma originale. Il più possibile rispondente alla volontà dell'autore, sulla base dello studio comparato, con l'azione, di ciascun passo dei diversi testimoni diretti e indiretti esistenti. Siano essi manoscritti o testi a stampa. L'edizione si presenta perciò con un apparato critico che riporta le lezioni varianti. Può anche presentare uno stemma codicum riportante la familiarità tra i vari testi messi in relazione per rintracciarne l'archetipo. E vi aggiungo che l'archetipo è ciò che sarebbe dovuto essere il testo uscito dalla penna dell'autore. Quindi sta ai filologi stabilire se nell'archetipo facessi parte oppure non anche il tetragramma. Una sola occorrenza non può essere una prova definitiva. Quindi dal punto di vista scientifico, cioè dal punto di vista filologico, quello che fanno è completamente sbagliato. Ma anche se fosse, si tratta dell'Antico Testamento e non del Nuovo, non dimostra l'uso del tetragramma anche nel Nuovo Testamento. E non solo, gli apostati, avrebbero tolto il nome divino anche dagli altri manoscritti della Bibbia dei 70? Tra cento anni prima di Cristo? Non è più semplice accettare che il timore e il rispetto per il nome divino avesse portato gli ebrei. O perlomeno i traduttori a non riportarlo a camuffarlo per evitare che si pronunciasse in vano oppure per rispetto alla credenza degli ebrei? Vi faccio notare che nel papiro di cui vi parlavo c'è il tetragramma, non il nome divino vocalizzato, infatti ci sono solo le consonanti, non ci sono le vocali, e né tantomeno la traduzione in greco del nome di Dio, mentre il nome di Gesù nel Nuovo Testamento è tradotto in greco. Invece la parola Alleluia, che contiene il nome abbreviato di Dio, cioè Ia, contiene anche la vocale. Quindi non ci venissero a dire che noi non conosciamo l'esatta vocalizzazione del nome di Gesù e che essendo tradotto nella nostra lingua dobbiamo tradurre anche quello di Dio. Quello di Gesù lo conosciamo tramite testi scritti in greco, per cui non si hanno dubbi sulla vocalizzazione del suo nome in ebraico. Anche se quel papiro, per assurdo, testimoniasse l'uso del tetragramma nel Nuovo Testamento, comunque non testimonierebbe il fatto che esso venisse pronunciato, o vocalizzato in qualche modo, e né tantomeno che venisse pronunciato Geova. Infatti Gesù e gli Apostoli erano culturalmente ebrei, in teoria non avrebbero dovuto pronunciare quel nome. Anche se parte delle usanze e delle tradizioni della legge di Mosè furono abbandonate. Quindi non saprei dirvi se i primi cristiani pronunciassero il nome di Dio. Di fatto se troviamo il tetragramma e non il nome completo di vocali evidentemente c'era una ragione. Vorrei poi fare delle ulteriori precisazioni. Il nome di Dio nella Bibbia ha una sua storia. Nella Genesi confluiscono la tradizione orale javista e quella eloista. La prima è la più antica, risale all'anno mille avanti Cristo e usava appunto il nome Yahweh. Mentre l'altra risale all'ottavo secolo avanti Cristo e si riferisce a Dio con Elohim. Quindi ci sono delle ragioni storiche se talvolta nella Bibbia si usa la parola Dio e talvolta si usa il suo nome proprio. Il primo nome con cui Dio si è fatto conoscere all'uomo non è stato Yahweh ma il Shaddai, che deriva dalla religione cananea. Con esso si presentò ad Abramo, Isacco e Giacobbe e di solito lo si traduce con Dio Onnipotente, anche se si discute sull'esatta traduzione, ma non è questo che ci interessa adesso. Dopodiché in Esodo 3 e 14, Dio ripresenta a Mosè con il nome Io sono colui che sono, oppure Io sono, e viene anche specificato che ad Abramo non fu rivelato questo nome, come sintetizzato e confermato in Esodo 6, 3. Ma allora Dio ha due nomi? No, è lo stesso? Perché in ebraico Yahweh è la terza persona singolare dell'imperfetto del verbo essere, mentre Io sono è la prima. Per essere più precisi, il nome divino alla lettera Io ero, ma il significato Io sono, Io ero, Io sempre sarò, cioè essere, all'infinito. Perché l'imperfetto in ebraico indica un'azione non conclusa. Infatti in latino, così come in greco, la parola infinito significa appunto non finito, ovvero non concluso. Per questo alcune Bibbie protestanti traducono con l'Eterno. Come ad esempio la nuova Diodati. Oppure la riveduta. Quindi il nome con cui Dio si è presentato è ovviamente alla prima persona, ma gli altri si riferiscono a Lui alla terza persona. Vi metto tra i link in descrizione la coniugazione del verbo essere in ebraico antico, per rimostrarvi che veramente, Yahweh è il verbo essere imperfetto terza persona singolare maschile, e che le consonanti sono le stesse del tetragramma. Quindi Io sono è il nome con cui Dio chiama se stesso e Yahweh è il nome con cui gli altri lo chiamano. Quindi esisterebbe una traduzione del nome di Dio che non è Geova. Quindi è praticamente certo che l'esatta vocalizzazione sia Yahweh, perché questi due nomi di Dio coinciderebbero nel significato. E vorrei sottolineare che mentre Io sono e Yahweh hanno senso compiuto, invece la parola Geova, fino a prova contraria, non ha alcun significato. La cosa ancora più importante da dire è che in realtà è nome di Dio, anche se non espresso con il tetragramma. Ma tradotto in greco, c'è come nel Nuovo Testamento, cioè Io sono. Gesù usa molte volte l'espressione Io sono, e non solo per dire cose del tipo Io sono il figlio di Maria, ma anche per dire cose dal significato teologico. Di questo se ne sono occupati in altri video e vi rimando ad essi, evitando di dilungarmi ancora e di ripetere le stesse cose. Vedo che questo tipo di video viene visto da qualcuno, che per me è un gran risultato, perché faccio quello che posso. Per cui ringrazio tutti quelli che guardano i miei video, vi ringrazierei uno ad uno visto che siete pochi, a breve usciranno altri video, appena posso. Per il momento è tutto, alla prossima.